Con il 32% dei voti il centrodestra pugliese regge l'urto dell'ondata 5 stelle e pur perdendo tutte le sfide nei collegi uninominali riesce ad eleggere 9 deputati e 4 senatori grazie alla ripartizione proporzionale dei seggi. Forza Italia si rivela il secondo partito della regione con il 18%, ben 4 punti in più rispetto al dato nazionale, mentre la sorpresa si chiama Lega, secondo partito della coalizione capace di sfondare la soglia del 6% e di eleggere due deputati ed un senatore. Fratelli d'Italia si attesta poco sotto il risultato conseguito a livello nazionale e il suo 3,8% è utile ad eleggere un solo deputato, il coordinatore regionale del partito Marcello Gemmato. Noi con l'Italia paga invece il disastroso esito elettorale a livello nazionale, rimanendo fuori dalla ripartizione dei seggi. L'onorevole Fitto e i principali esponenti del suo partito non riescono dunque ad entrare in Parlamento. Nel collegio plurinominale della Camera Puglia 1 il centrodestra riesce ad eleggere il capolista di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, mentre De Bacl nei collegi uninominali di Bari Molfetta e Altamura, dove Massimo Cassano, Gino Perrone e Rossano Sasso si devono arrendere ai candidati del Movimento 5 Stelle. Almeno per Rossano Sasso funziona il paracadute del proporzionale nel collegio plurinominale Puglia 2, dove il coordinatore regionale della Lega è il primo degli eletti nel listino del partito di Salvini. Forza Italia elegge invece Elvira Savino ed Elio Vito. Nei collegi uninominali di Lecce, Nardò e Casarano vengono sconfitti dai candidati 5 Stelle Saverio Congedo, Andrea Caroppo e Rocco Palese, nonostante superino il 33% dei consensi. Nel collegio plurinominale Puglia 3 Forza Italia elegge nel suo listino Mauro Dattis e Vincenza Labriola, mentre la Lega incassa il suo secondo deputato con la capolista Anna Rita Tateo. Nei collegi uninominali di Monopoli, Taranto, Martina Franca e Brindisi, buone le prove dei candidati del centrodestra, benché in nessun caso utili a vincere le sfide con i pentastellati. Nel collegio plurinominale Andrea Foggia, il lavoro di tanti attivisti di Forza Italia sui territori è servito ad eleggere nel listino Anna Elsa Tartaglione, ex Miss Molise candidata ma non eletta nella sua regione d'origine. Nei collegi uninominali di Andrea Cerignula, Sansevero e Foggia devono arrendersi all'egemonia pentastellata anche i consiglieri regionali Francesco Ventola e Gian Diego Gatta, l'onorevole Angelo Cira e Micaela Di Donna. Intanto i risultati confermano un consolidamento del centrodestra in questo territorio, quindi un voto abbastanza radicato. Chiaramente non ci aspettavamo questa debacle centrosinistra, i cui voti poi sono andati tutti a favore del Movimento 5 Stelle. Per cui quando è partita la competizione elettorale tutti ci aspettavamo un centrosinistra intorno non meno del 27-28% e vi compreso liberi uguali. Noi come centrodestra confidavamo di una percentuale che potesse andare dal 34% al 36-37%, quindi tutto sommato siamo stati lì. I voti in uscita del centrosinistra ai noi sono andati tutti a favore del Movimento 5 Stelle. Nelle città della BAT da segnalare la buona prova della Lega, che sfiora in alcuni casi supera la soglia del 5%, confermandosi secondo partito della coalizione, mentre la parabola discendente di Noi con l'Italia trova la sua conferma a Barletta, dove i suoi sostenitori non riescono a raccogliere più di 463 voti, meno di quelli ricevuti dal candidato del partito valore umano. Al Senato, nel collegio plurinominale Puglia 1, il centrodestra elegge un solo parlamentare. Nell'istino di Forza Italia, Ligia Ronzulli, eletta in un collegio uninominale in Lombardia, lascia il posto al barlettano Dario Damiani. Negli uninominali non ce la fa a Bari Paolo Melchiorre, mentre per la Molfettese Carmela Minuto sfuma l'elezione sia nel maggioritario che nel proporzionale. Buona nel collegio di Andrea Manfredonia la prova del biscegliese Sergio Silvestris, che ottiene il 33% dei voti, rendendo un po' meno amara la sconfitta contro il professor Giroquarto del Movimento 5 Stelle. Nell'altro, collegio plurinominale del Senato Forza Italia elegge Luigi Vitali, che rimedia così alla sconfitta nell'uninominale di Lecce, e Michele Boccardi, che come nel caso di Damiani, prende il posto occupato nel listino da Ligia Ronzulli. La Lega, infine, elegge il suo unico senatore, Roberto Marti. Grazie. Grazie.